un piccolo video di dimostrazione però ho bisogno di aiuto da qualche esperto su come addestrare il mio cane che è un bracco tedesco attualmente ha tre mesi e sto cercando di insegnargli il riporto del bastone ok ora vi faccio vedere come faccio io se avete dei consigli da darmi vi prego di lasciare un commento si va? io rilancio il bastone e poi gli dico di portarlo qua vieni qua si va porta qua e questo è il cane che mi lascia il bastone io lo prendo e gli dico brava si va brava e gli do un pezzetto di plum cake da mangiare si va seduta seduta ehi seduta ferma ferma vai io sto usando questo metodo e sto avendo dei risultati se avete dei consigli da darmi vi chiedo cortesemente di lasciare un commento qui sotto grazie ciao 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 Grazie.